Ciao ragazze, ancora un video sull'enne perché vedo che questo argomento vi interessa e vi preme e comunque è un argomento che piace anche a me. Allora, come fare a scegliere l'enne giusto per voi? Io naturalmente vi posso solo parlare della mia esperienza personale. Per la mia esperienza personale ci sono tre regole, tre passi fondamentali per scegliere l'enne giusto per voi. Allora, il primo passo è leggere attentamente le esperienze altrui e quindi video su YouTube vi possono essere utili ma soprattutto la lettura di tre blog. Allora, il primo blog di cui vi parlo è un blog in italiano www.capellidifata.it È un blog molto valido, io ci ho letto tante informazioni utili, per me però a volte è un po' confusionario. Non sto parlando dei dialoghi né delle splendide e simpatiche moderatrici, sto parlando però proprio dell'architettura del sito e del blog. A volte secondo me è un po' dispersivo. Poi, il secondo blog, anche questo se siete utenti YouTube ne avrete già sentito parlare, è www.henna4hair.com. Questo blog e questo sito dedicato interamente all'enne è scritto in inglese, ci sono tantissime informazioni utili ma è un sito gigantesco, con un menu complessissimo e quindi è molto lungo da visitare. Ha delle informazioni chiare, tante esperienze, tante fotografie e quindi è utile, però tenete presente che è veramente gigante e bisogna passarci un po' di tempo. Il terzo blog, che è il mio preferito, è collegato con un sito che si chiama www.centifogliabio.fr ed è il blog Le Jardin d'Isabelle. Isabelle è una ragazza francese che ha dei capelli meravigliosi, a dire poco, lunghi, quasi fino al fondo schiena, di un biondo irlandese lucidissimo e bellissimo e lei dà indicazioni su come mantenere i capelli sani e su come fare l'enne. Il suo blog è collegato appunto a centifogliabio.fr che è un negozio online francese, un'alternativa ad Aromazon, che però ha le spese di spedizione molto alte per cui io non ci ho mai comprato. È un sito che tengo sempre sott'occhio, mi piace tantissimo, desidererei acquistare, però sto aspettando di trovare qualcuno che divida le spese di spedizione oppure rifare un ordine talmente grande che mi giustifichi le spese di commissione di 15-20 euro. Stasera non so più parlare perché sono stanca, sono giornate lunghissime e dense di attività quelle prenatalizie, lo sapete. Quindi il primo passo è leggere le esperienze di questi tre blog che trovate su questi tre blog, che sono veramente esaustivi, utili, dettagliati e non sembra ma a leggere tante volte e più esperienze cominciate a fare amicizia e capire esattamente i tempi, come si forma la papa dell'enne eccetera e poi quando vi mettete praticamente a farla vedrete che tutte queste letture vi saranno utili. Quindi vi invito a leggere questi blog, questo è il primo passo. Il secondo passo è leggere, dovete scegliere a questo punto la miscela però di enne giusto per voi e per decidere tra quali enne sul mercato è il migliore enne per voi dovete leggere l'inci. L'inci non è qualcosa da analizzare a posteriori dopo che avete comprato un enne o un cosmetico. L'inci è da leggere prima nel negozio per orientarsi verso il giusto acquisto. Cioè teoricamente leggendo in modo corretto e da esperti l'inci non dovrebbe neanche essere più necessario provare i prodotti, dovreste andare direttamente a colpo sicuro. Infine il terzo passo è fare una prova, un esperimento e questo esperimento consiste nel prelevare dei capelli dalla vostra spazzola oppure provare su dei fili di lana bianchi la miscela di enne che dopo aver letto l'inci finalmente avete scelto e che quindi è quella che voi volete provare sui vostri capelli. Prima di fare un esperimento del genere è utilissimo e anzi indispensabile, lo scrivono un po' tutte le case produttrici di enne ma poi lo fanno ben in poche ragazze, provare con un sample di pappina l'effetto che fa su una piccola ciocca di capelli oppure su un filo di lana. E quindi di seguito vi faccio vedere in 5 minuti questo esperimento fatto da me con l'enne biondo dorato sitarama. Siamo pronte per l'esperimento, questo è l'enne biondo dorato sitarama, questi sono gli ingredienti, vedete? E quindi farò un sample di pappina soltanto con un po' di acqua tiepida, un limone e poi proverò domattina dopo che ho ossidato tutta la notte questa pappina a metterla su dei fili di due tipi diversi di lana bianca e poi questa è la bustina dove ho ottenuto qualche capello della spazzola per fare prima una prova. Questa è la busta dentro la scatola di enne. Vedete? Made in France, enne biondo. Adesso la apro e prendo soltanto un paio di cucchiaini. Questo è il colore dell'enne biondo dorato sitarama. Ve lo faccio vedere in comparazione all'enne biondo di Aromazon. Vedete? Il colore è pressoché identico. Il profumo no, forse perché questo è appena aperto, ma mentre l'enne di Aromazon ha di più l'odore di camomilla, si distingue la camomilla, questo ha un odore più pungente e più speziato. Ma ripeto, comunque l'enne Aromazon è aperto da un po', mentre questo l'ho appena aperto, forse in parte dovuto anche a questo. Adesso aggiungo il limone e l'acqua tiepida. Ok, la pappina di prova è finita. Non è venuta molto liscia, è abbastanza grumosa, come proprio se dentro ci fossero tante erbe fresche o comunque tornate umide con l'aggiunta di acqua. Quindi non è una pasta liscia. Non pensate a qualcosa come l'enne Neutro Cadì, che è veramente una pasta molto molto liscia. Adesso lascio questi due cucchiaini scarsi di enne Biondo Dorato Sitarama ossidare tutta la notte e poi domani mattina, quando l'enne sarà pronto, proverò a metterlo sopra i fili di lana bianchi per vedere esattamente la quantità di rosso e di giallo e poi questa ciocca di capelli che ho preso dalla spazzola e che, non so se vedete, contro il bianco sono decisamente biondi, castano molto chiaro, biondo scuro, insomma. Vediamo domani alla luce del giorno, dopo un paio d'ore di posa, qual è il risultato di questo enne. La pappina è pronta dopo aver ossidato tutta una notte. L'alone sul cucchiaino, non so se riuscite a vedere, sembra giallo e non rosso e questo è positivo. Adesso la metto sui fili di lana e sulla ciocca di capelli e poi la lascio in posa per un paio d'ore. Ho messo la pappina di enne Biondo Dorato Sitarama sulla ciocca di capelli, poi un pochino sui fili di lana bianca molto grossa e poi anche sui fili di lana bianca un pochino più sottili. Come vedete dal piatto, l'alone è giallo, non è né arancione né rosso, quindi già questo mi fa ben sperare. Adesso copro in modo da sviluppare un pochino di calore o comunque di tenere coperto l'ennè, copro con un altro piatto con Domopak, adesso vedo un po' qual è la soluzione più pratica e lascio in posa un paio d'ore. Ragazzi, siamo alla luce del giorno, purtroppo non è una giornata di sole, però mi sembra che questo enne Biondo Dorato Sitarama di rosso ne abbia veramente poco, semmai c'è qualche riflesso appena verdino. Vedete? Niente rosso, quindi penso che passerò direttamente alla prova sui capelli. Vedete il potere di tintura non è tantissimo, non è esagerato, la lana si è tinta, però non tanto. Probabilmente per coprire i bianchi ci vogliono due o tre applicazioni a distanza di 10-15 giorni. Comunque, il Biondo mi sembra che non sia né diventato Biondo Irlandese, quindi sull'arancione, né che abbia tanto rosso. Forse così si vede meglio il Biondo. No, direi che la prova è andata decisamente bene. Allora, care bionde, come sono arrivata ad acquistare e a scegliere l'enne Biondo Dorato Sitarama? Ho messo a confronto l'inci di alcuni enne sul mercato che io consideravo adatti al mio tipo, soprattutto al mio colore di capelli. E quindi vado brevemente a parlarvi di questi inci in modo da, spero, darvi qualche consiglio giusto per scegliere poi la vostra miscela. Allora, ho un foglietto di appunti perché naturalmente non mi ricordo a memoria gli inci di quattro differenti enne. Allora, vado subito con il primo. Il primo enne di cui vi volevo parlare è quello di Aromazon. Voi lo sapete, perché io ho fatto già altri video, l'enne di Aromazon non contiene l'ausonia in ermis, che sarebbe l'erba che dà il classico colore rosso. Infatti, l'enne Biondo Aromazon contiene camomilla, fiori di camomilla, polvere di fiori di camomilla, rosmarino officinale, la polvere delle foglie di rosmarino, cassia o bovata, e radice di rabarbaro cinese. Questo è l'enne Aromazon. Quali sono i pro e quali sono i contro? Il pro di questo enne è che se siete biondo chiaro, questo enne non contiene l'ausonia in ermis, quindi rosso, vi darà dei riflessi biondi dorati color miele e non c'è il pericolo di diventare rosse. Quali sono i contro? I contro sono che questo enne cola tantissimo e poi che è reperibile solo su Aromazon, per cui se non dovete comprare altro su Aromazon, naturalmente non vi conviene, perché le spese gratuite le avete, non mi ricordo se sopra i 30 o sopra i 40 euro, per cui la reperibilità è un po' un altro dei contro di queste enne. Andiamo avanti. L'altro enne di cui ho analizzato l'inci è Cadì Castano Chiaro. A me piace tantissimo la ditta Cadì perché sono incuriosita e appassionata, anche se non ne so molto, di Ayurveda, per cui ho provato ad analizzare l'inci anche di un enne Castano Chiaro. E l'enne Castano Chiaro di Cadì ha come primo elemento dell'inci, indigofera, tinctoria e quindi indaco. Il secondo è Lausonia inermis, quindi l'ennevere proprio il rosso è al secondo posto, quindi mi immagino che sia un enne che dà sul rosso. Emblica officinalis, cioè amla. E poi Eclipta alba. L'eclipta alba è un'erba ayurvedica contro la caduta dei capelli. E poi il neem, che è un'altra erba ayurvedica, dalle proprietà rinvigorenti, antibatteriche, eccetera. Questo enne mi ispira tantissimo perché lo trovo un impacco davvero curativo e ayurvedico, però il fatto che ci sia l'indaco e la Lausonia, l'indaco al primo posto e la Lausonia al secondo, mi fa pensare che sia troppo scuro per me. E quindi alla fine non l'ho scelto. Poi sono andata a analizzare anche l'inci del biondo rosso della Zantè, certificato BDIH. Questo inci appunto appena l'ho letto e l'ho controllato ho subito deciso che non era per me, perché adesso ve ne parlo. Al primo posto troviamo Hydrolyzed Wheat Protein, che ha un pallino rosso sul biodizionario online ed è un umettante e questo è al primo, primissimo posto, quindi nella quantità più grande. Al secondo posto c'è Algin, quindi Sodium Alginate, che è solitamente usato come integratore per bocca, per l'intestino, quindi non so perché si trovi nell'enne, e probabilmente ha una funzione nella conservazione e poi nella liscezza dell'impasto, direi, finale. Questo lo immagino, non lo so. Se lo sapete, ditemelo voi. Al terzo posto Lausonia in Hermes, quindi rosso, poi Cassia o Bovata, Juglands Regia, che sarebbe la noce, e quindi il guscio della noce sbriciolato, poi Indigofera, e quindi Indaco, Radice di Rabarbaro, poi c'è Crameria Triandra, che è una radice usata in Portogallo per colorare il vino di rosso rubino, quindi di nuovo rosso, poi Caffè, Coffea Arabica, Curcuma e poi Beta Vulgaris, cioè la barbabietola, di nuovo rosso. Quindi al primo posto c'è un ingrediente con un pallino rosso, e quindi un umettante un po' controverso. In più ci sono un sacco di erbe scure, Indaco, polvere di walnut shell powder, quindi polvere di guscio di noce, e poi c'è la Lausonia ai primi posti dell'Inci, barbabietola, di nuovo un colorante rosso, ho deciso che non fa per me, infatti si chiama Strawberry Blonde, mi sembra, ma a casa mia Strawberry, che sono le fragole, non sono bionde né gialle, quindi questo Strawberry Blonde mi fa pensare a un biondo irlandese che dà più sul rosso. E alla fine vi leggo l'Inci, delle N. Centifolia Bio, che è al primo posto Camomilla, al secondo posto Rosmarino Officinale, terzo posto Cassio Bovata, quarto posto, solo quarto posto, Lausonia, e quinto posto Raponti, che quindi la radice è sempre della Barbaro Cinese, che dà un colore giallo. Infatti ero indecisa, se finalmente fare un ordine da Centifolia Bio.fr per prendere questo Nebiondo, che ha un Inci, che mi ispira tantissimo, e che potrebbe andare bene per me, perché la Lausonia non è ai primi posti, e tutte le altre sono erbe schiarenti, schiarenti con la Camomilla al primo posto dell'Inci. La Camomilla è l'erba schiarente e per il Biondo, in eccellenza. Ero indecisa tra questo e poi quello che effettivamente ho acquistato, che è l'Enebiondo Sitarama. Quindi alla fine, perché poi ho optato per questo? Perché questo per me è molto più reperibile, nel senso che lo vende Daniela, quindi ce l'ho in un'erboristeria dove mi fa tantissimo piacere andare, e che è sotto il mio ufficio, e quindi naturalmente se questo avesse funzionato, per me sarebbe stata una scelta molto pratica, oltre che comoda. Vi leggo quindi l'Inci dell'Enne Biondo Dorato Sitarama, che è al primo posto Cassia Italica, al secondo posto la radice di rabarbaro cinese, e quindi che dà un colore giallo, al terzo posto Camomilla, estratto di Camomilla, al quarto posto Rosmarino Officinalis Extract, e solo in ultimo posto Lausonia Inermis. E quindi alla fine ho optato per questo. Ragazze, io spero di esservi stata utile. Se siete biondo molto chiaro, ricordatevi, cioè ricordatevi, vi dico quello che ho imparato dalle mie ricerche. Le erbe più schiarenti sono la camomilla, quindi i fiori di camomilla triturati in polvere, la radice di rabarbaro, il limone, e quindi mettere il limone come ossidante nella vostra pappina di Enne, e poi un altro ingrediente schiarente è il burro di karité, ma il burro di karité quello vero. Il burro di karité, infatti, io ve ne avevo parlato nel video sulla cura dei piedi, perché se voi avete le unghie che si sono un pochino scurite, un pochino ingiallite, a furia di stare dentro le scarpe chiuse, magari dopo tutto l'inverno, voi mettete su per due giorni di fila il burro di karité vero, cioè 100% burro di karité vergine spremuto a freddo, e quindi estratto come si deve, in modo che mantenga tutte le sue proprietà, voi vedete che le unghie si schiariscono, si sbiancano e diventano lucide, come se aveste lo smalto. E questo effetto schiarente, naturalmente si ha anche sui capelli. Per cui, dalle informazioni che vi ho dato sugli inci, voi poi potete provare a fare le miscele che più vi piacciono. Potreste, per esempio, decidere di fare per metà questa miscela e per l'altra metà, per esempio, se trovate la camomilla in polvere, sul sito di centifogliabio.fr la vendono. E poi, invece che aggiungere un olio, potreste aggiungere il burro di karité. E via di questo passo. Le miscele, le combinazioni che potete fare, sono infinite. Sono infinite, sono personali, perché quello che succede sul vostro capello è unico, perché le ne reagisce in modo leggermente diverso, a seconda del capello. Per cui, il risultato è assolutamente personale. Non come le tinture chimiche, che sono uguali per tutti, coprono il vostro colore, e quindi poi usciamo dal parrucchiere tutte e quattro, con la stessa mesh, o con lo stesso tipo di biondo. Che, secondo me, è una cosa un po' triste. È meglio che il colore di base venga preservato, e che poi vengano aggiunti dei bei riflessi, con, appunto, una miscela DNA che provate, sperimentate, e scegliete voi in autonomia. Spero che questo video vi sia stato utile. Vi scrivo sotto tutte le informazioni, i siti, i blog, eccetera, e se avete delle domande, mettetele nei commenti. Grazie, ciao!